Un problema è quello delle fake news. Il Ministero della Salute vuole adoperarsi, si adopera per cercare di combattere questo fenomeno. In realtà ci sono una serie di progetti che il Ministero della Salute e non solo il Ministero della Salute ma anche altri enti, la CRUI, le università, il CNR, stanno portando avanti affinché ci siano dei contraltari scientificamente attendibili a quelle che sono delle notizie che girano in maniera estremamente rapida in tutti i social, in tutte le possibili maniere di far girare comunicazioni che non sono spesso controllabili. Devo dire che su questo stiamo lavorando congiuntamente con altri enti di ricerca affinché ci siano dei portali che siano in grado di fornire le notizie giuste, di fare eccellere le ricerche scientifiche nazionali italiane nella maniera giusta, dandogli il risalto giusto, a scapito di quelle che invece sono delle conoscenze non verificate, non attendibili e spesso fuorvianti. Questo è un obiettivo primario di comunicazione che il Ministero della Salute ha e devo dire che anche questo è uno dei progetti e uno degli ambiti su cui stiamo lavorando attivamente. Lei quindi parla di una rete di cui fanno parte associazioni, società scientifiche, in primis appunto Ministero e Osservatorio. Abbiamo già avuto diverse riunioni in questo ambito e ci sono una serie di progetti che realizzeranno dei portali di attività scientifica, di comunicazione scientifica per sviluppare quello che deve essere l'informazione corretta a scapito delle fake news scientifiche. In questo senso l'Italia può essere definita fiore all'occhiello, se vogliamo un paese virtuoso rispetto al resto dell'Europa ma anche del mondo? Ancora no, ma se riusciamo a realizzarlo potrebbe essere il primo paese europeo che ha un portale di questo tipo.